Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio fare un unboxing un po' a sorpresa anche per me, non mi aspettavo questo pacco oggi, quindi vogliono scoprirlo insieme a voi, quindi l'armato di forbici e di questo bel pacco. Andiamo ad aprire e vediamo, scopriamo cos'è, io penso già di sapere di che cosa si tratta. Vediamo, andiamo ad aprire. Signore, signori, il mio nuovo freno a mano ragazzi. Si, ho pagato la modica cifra di 80€ su Amazon, è arrivato praticamente in due settimane. Che dire, sembra abbastanza massiccio anche se devo fare il pignolo ci sono piccolissime imperfezioni, ma penso che deve essere una bella bestia ragazzi. Quindi si può fissare sia in orizzontale che nella modalità classica da freno a mano. Ovviamente sarà per me l'occasione di poter fare un altro video con magari la recensione per dire cosa ne penso di questo nuovo accessorio. Era uno di quelli che mi mancava proprio il freno a mano, questo qua si usa soprattutto quando si fa il rally o drift. L'ho scelto colore rosso perché diciamo che mia moglie me l'ha imposto di questo colore qua e quindi l'ho preso rosso, diciamo le finiture. Ha il suo peso e questo è un segnale di probabilmente buona resistenza, come dicevo più o meno 80€ l'ho pagato con le spese di spedizione, a vedere se la sua longevità e la sua resistenza appunto installata sulla mia postazione. Mi sembra, come dicevo, a parte qualche piccola imperfezione di dettaglio, di buona fattura, car pesa assoluto. E quindi niente, vediamo come funziona e sicuramente avrò l'occasione appunto di potervi parlare e fare una recensione di questo accessorio. Se siete interessati mi enterò sotto qui in descrizione il link di dove l'ho comprato, ci sono due o tre versioni interessante, soprattutto perché il prezzo è abbastanza abbordabile rispetto a quello che si trova oggi sul web. Vabbè ragazzi, io penso che questo unboxing sia terminato così, vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito, non esitate a lasciare un commento, un like al video se l'unboxing rapido rapido vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, tante è gratuito, noi ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, ciao! Ciao!